Senti No La seconda batteria con la recursos uhh 20 Senti 082 per l'Apibelli 2849 per l'Apauletti terza batteria con la chiara Cognini è morto lato con la terza batteria. Senti 082 per l'Apibelli 2849 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 per l' 19, 288, l'Isa Sorzonovo, 21, 484, la nuova camera del migliottempo. Sì, 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 sì. 20, 159 per Cesc e 21, 701 per Fattori. Solo 8 batterie di questa fase di qualificazione, ma bisogna scendere sotto i 20 secondi. Per puntare almeno al podio provisodio, si fa anche al tempo di questa batteria come lo sai. 2984 per Coraianni, 21348 per Guevonini. Nella sette... Aveli! Aveli! Già da Tavarone e Melissa Mezzetti. Qualificazione. 2863 per Coraianni. 21,829 per aenzienti. Ottavano... Sei... Hai vinto! e anche come la prima storia di un lì, compie 40 anni e la prima storia di un 183. Grazie.